Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale dei Piloti e benvenuti alla puntata di Racing Time che chiamiamo TG Giorno anche se è quasi sera. Questo se ricordate ieri ve l'avevo un po' anticipato, non ci sono stato praticamente tutto il giorno, non potevo registrare. Però in ogni caso l'importante è che sto qua, tra l'altro mi devo pure sbrigare perché ho lezione e quindi devo accelerare il ragion per cui salta anche la sigla. Dunque chi abbiamo qui oggi? Abbiamo il direttore tecnico della Ferrari, ovvero Enrico Cardile. A tutti gli effetti il direttore tecnico è lui, anche se, devo dire la verità, lo vediamo pochino nei campi di gara. Però facciamo che sia impegnato parecchio a Maranello per il progetto 676. Questa è una cosa importante, vedremo poi se durante la prossima stagione sarà presente un po' di più perché il direttore tecnico è importante che sia anche in pista. Ma al di là di questo, perché salta oggi un po' agli onori della cronaca? Perché oggi alcune testate giornalistiche hanno anticipato una cosa che farà parte della nuova Ferrari della prossima stagione, ovvero il cambio rifatto. Ora io devo essere sincero, forse avevamo parlato, di sicuro abbiamo parlato del retrotreno e questa è una delle novità che ci saranno al retrotreno della Ferrari. Però al di là di questo, molti di voi di questo cambio ci hanno parlato con il sottoscritto in chat diretta, sapete benissimo che a me non piace dare anticipazioni per avere una copertina con un semplice clic. Quindi ho scelto di seguire questa politica, spero la appreziate e non darò nessuna anticipazione ma parlerò di ciò che avverrà sulla futura monoposto solo quando altre testate giornalistiche o altri personaggi lo faranno. Ora voi direte così è facile, molti di voi potranno pensare questo, così è facile perché tu le senti là e poi le riporti qua e dici chissà cosa. No, in realtà alcuni di voi, anzi più di alcuni, potranno anche scriverlo nei commenti se vogliono, sono testimoni di, come dire, alcune discussioni che ci siamo fatte tra di noi dove appunto abbiamo parlato anche di questa novità ma in privato, in chat diretta senza spubblicare al mondo nulla. ovviamente se la news del cambio, questa è una foto di comodo, ragazzi viene fuori allora ne parliamo e ne parliamo anche abbastanza approfonditamente. Diciamo che avere un cambio totalmente rifatto per quel che riguarda non gli ingranaggi, l'ingranageria interna non viene toccata, questo ve lo posso dire con una buona certezza, ma la scatola del cambio, quella sì, è stata rifatta ed è stata fatta un pochino più piccola, più ridimensionata. Avere un involucro più ridimensionato significa avere innanzitutto ingombri minori ma anche un peso minore al retrotreno. Avere meno peso al retrotreno significa inevitabilmente andare a guadagnare qualcosa a livello di bilanciamento sull'anteriore. Avere un anteriore un po' più preciso, se tu togli peso dietro anche quel poco che togli sposta leggermente il baricentro verso l'anteriore. E questo a una vettura sottosterzante come la SF23 male non fa. Ovviamente qui stiamo sbagliando un po' a parlare perché la nuova Ferrari, quella del 2024, non avrà tantissimi punti in comune, cioè alcuni ce li avrà per carità, ma sarà comunque una vettura nuova. Il telaio è nuovo, quindi per forza di cose viene rifatta anche la distribuzione dei pesi, cercando di avere un bilanciamento migliore tra anteriore e posteriore, ma anche cercando un pochino di abbassarlo questo baricentro che male non fa. Cosa mi preoccupa del discorso cambio? Adesso posso dirlo tranquillamente. Un discorso legato magari all'affidabilità. Eh ma voi direte ma è la scatola che si sta cambiando? No, gli ingranaggi sì, è vero, però cambiare la scatola è un processo abbastanza delicato. Devi andare anche a modificare i punti di attacco della sospensione e il tutto lo fai con una struttura più piccola. Quindi per forza di cose devi avere delle rigidità strutturali che non variano perché devono sopportare la sospensione che lavora, l'attacco della sospensione, però al tempo stesso hai tutto miniaturizzato. Non è semplicissimo, entrano in gioco tanti fattori, tant'è che ieri cercate di leggere tra le righe e vi ho detto un qualcosa che riguarda la tabella di marcia. Chissà, chissà che questo leggerissimo ritardo non possa riguardare anche questa novità, questo però io non ho detto forse, mica ho detto che è così, ho detto forse, quindi vediamo magari è quello, magari no. In ogni caso spero che questo nuovo cambio poi non dia problemi di affidabilità perché potrebbe anche succedere, però è un rischio che la Ferrari in un certo qual modo deve correre, soprattutto perché ha scelto di non cambiare lo schema sospensivo e almeno questa è al momento la voce, poi magari ci stupirà, vedremo, ma non credo, non credo affatto. E questo significa andare a cercare un qualcosa, perché viene cercato questo cambio più piccolo, andiamo a vedere un attimino. Questo è l'ingombro, se guardiamo la foto di sopra ci rendiamo conto dove siamo sotto, è l'ingombro di tre vetture di vertice. Questa è la Ferrari, vedete il cambio, come va ad occupare gran parte della gola del diffusore della Ferrari, è veramente un qualcosa di importante. Questo è quello della Mercedes che comunque ha uno schema sospensivo nel 2023 uguale a quello della Ferrari, però sembra una gola un pochino più snella. Guardate come invece cambia il discorso in casa Red Bull, ma avrei potuto farvi vedere anche una foto della McLaren. Vedete che qui c'è molto più spazio. Guardate questa distanza, guardate qui questa distanza, nonostante ragazzi ci sia tanto nero qua dietro, guardate anche qui. Ebbene, qua c'è dello spazio in più, più spazio ha il diffusore e meglio funziona nell'estrazione dell'aria che c'è nei canali, per quel che riguarda l'estrazione dell'aria che c'è nei canali venturi. Ecco perché in Ferrari si sta cercando di ridurre l'ingombro del cambio per avere appunto più spazio in questa zona della vettura, nella gola del diffusore, che facilita poi l'estrazione dell'aria dai canali venturi e soprattutto da una vettura più stabile a livello aerodinamico, che è una delle chiavi di volta del prossimo progetto della Ferrari. Però potrebbe non essere l'unica cosa che viene fatta al retrotreno. Magari, chi lo sa, hanno trovato un filone aerodinamico interessante che potrebbe aiutare non poco la Ferrari ad avere tenuta nelle curve veloci, nei cambi di direzione veloci, nelle curve da media alta velocità, cioè tutti quei settori dove la monoposto del 2023 è stata profondamente carente, oltre al fatto di essere davvero, come dire, instabile quando entra all'aria sotto, quindi imprevedibile dal punto di vista della guida. Cosa che è stata parzialmente corretta a Suzuka con il nuovo fondo, che ha dato più feeling ai piloti, soprattutto all'Eclair, e che verrà ampliata, perlomeno su carta, per quel che riguarda il progetto 2024. Poi speriamo sempre che ci sia il riscontro della pista. Poi del fatto che avremo una sospensione anteriore e una sospensione posteriore con uno schema dei bracci diverso che darà meno beccheggio in avanti all'anteriore quando si frena e meno coricamento dietro, quindi anti-dive e anti-squat, meno coricamento dietro quando si accelera, quindi una piattaforma aerodinamica più stabile che renderà, come dire, stabile anche la portata d'aria che viene fatta convogliare nei canali venturi, indipendentemente dal fatto che si freni o si accelere un po' come ha già fatto Red Bull, McLaren e Mercedes quest'anno, ebbene questo non può far altro che migliorare le performance della vettura del 2024. Poi, ripeto, stiamo a vedere pure quello che faranno gli altri. E a proposito di altri, io sono abbastanza sicuro del fatto, e non lo dico perché ho delle info particolari, ma perché credo che faranno così, che i Mercedes invece cambieranno lo schema sospensivo dietro. Davanti non ne ho idea, e comunque la cosa è un po' meno importante, ma dietro è fondamentale. E per il filone di sviluppo che stanno scegliendo in casa Mercedes, che ci hanno fatto vedere già quest'anno, io credo che sia lecito e logico aspettarsi una sospensione posteriore push rod e non pull rod. Poi vedremo se corrisponderà a verità. Ripeto, di questa cosa qui non ho nessuna soffiata, nessuna info, è una cosa che mi aspetto io dalla Mercedes. Magari non sarà così, sarà la presentazione della nuova vettura a dircelo, però io credo che alla fine sceglieranno questa strada. Quindi Enrico Cardile ha un compito veramente importante, cioè quello lì di portare la rossa a un livello di competitività importante e vedremo se avrà fatto bene a lasciare lo schema posteriore invariato a livello di scelta pull-push, perché insistiamo, lo dico per quelli nuovi nel canale, perché uno schema pull-rod ti dà questo risultato, cioè poco spazio al diffusore. Uno schema push-rod alza un po' quello che è tutto l'ingombro, ti lascia molto più spazio nella zona del diffusore, dove c'è la gola del diffusore. Però, ripeto, potrebbe pure essere che a livello aerodinamico qualcosina di diverso è stato trovato dalla Ferrari e quindi conseguentemente lasciare il pull si può, ma questo, ripeto, sarà solo la pista a dircelo. Sulla carta ci sono svariate possibilità in galleria del vento, al simulatore, però poi ci vuole il riscontro del cronometro. Quindi, come dico io, non ci bagniamo prima che piova, vedremo cosa salterà fuori. Però, questa è, come dire, l'anticipazione di oggi e quindi io questa vi ho raccontato. Ripeto, non mi piace andare poi, non dirò mai nessuna roba che possa anticipare il lavoro che sta facendo la Ferrari perché avere il click in più non mi interessa. Poi, chi di voi mi conosce in chat diretta sa esattamente ciò di cui sto parlando, gli altri fidatevi oppure, che vi devo dire, cambiate canale. Andiamo avanti con la puntata Toyota. Di Toyota oggi vi dico due cose. Innanzitutto, anzi, facciamo tre. Che ha cambiato l'ivrea, non solo per quel che riguarda il WEC, ma anche per quel che riguarda il Mondiale Rally. E devo dire, ragazzi, che è molto, molto, molto accattivante, nonché più bella di quella precedente. Poi, la seconda cosa è la lista dei piloti che correranno per la Toyota in Superformula. Guardate in basso a sinistra, chi trovate? Tio Purchard, ovvero il campione del mondo di Formula 2, pilota francese, che, come vi avevo anticipato, si è accasato in Superformula. La terza cosa, non me la posso far vedere, ma ve la dico, perché è curioso notare come, in coincidenza del fatto che in onda abbiano detto che sono un po' preoccupati per i costi dei motori del 2026. Questa cosa qui tu la dici in una fase iniziale di avventura, no? E quindi non è sicura la loro presenza. Dall'altro lato, quindi, si inizia a parlare di un possibile interessamento di Toyota alla Formula 1. E questa è una notizia importante in qualità di motorista, ovviamente, perché, come avete visto, fare il telaio diventa un po' dura se non hai già un team di proprietà. Andretti in questo insegna. Adesso, ripeto, ciò che ieri sembrava sicuro, con la posizione di Binsula IEM che ha assunto oggi, con quel casino che ha fatto con Susi e Toto Wolf, ebbene, ciò dimostra quanto sia difficile, non è più così sicura, quanto sia difficile oggi entrare in un business pazzesco che è diventata la Formula 1. Ma questo, grazie al budget cap, perché prima si spendeva troppo rispetto a quelli che erano gli introiti, adesso è diventato un affare colossale stare in Formula 1 perché spendi pochissimo ed entra tantissimo. questo è quanto. Ragazzi, ho fatto una puntata più lunga di quella che pensavo, ora devo proprio scappare. Mi auguro che ci possiamo rivedere questa sera. Non è sicuro, dipende un po' da che ora finisco e da come sto messo, perché ieri ho fatto il video all'una e mezza di notte, ma la sveglia di mattina alle sei e mezza non ha pietà di nessuno. Quindi sono pure anche abbastanza, come dire, stanchino. Però farò di tutto per esserci, anche perché mi piacerebbe commentare, tecnicamente parlando, alcuni messaggi che sono arrivati sul canale. Quindi questo è. Bene, raga, vi ringrazio di aver seguito la puntata. Spero vi sia piaciuta. Se è così lasciate un like e un commento, condividete il video sui vostri social, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Per ora vi lascio, vado di corsa a lavorare. Ciao, ci vediamo dopo. Spero.